macchina che va per allungare allo stacco c'è l'errore di Remember Dete davanti si insedia Ramon Regal nei confronti di Renil Cam che prova a rientrare, sbaglia anche il numero 4 Recourse più indietro Riff Cronos, poi Ribot e K e ancora indietro l'altro cavallo che aveva appena sbagliato Remember Dete si va così al completamento della piegata l'errore da parte di Ribot e K che perde metri lungo la curva il primo quarto di gara in 30 e 6 prende la via del largo invece Riff Cronos che si avventura al lato del battistrada Ramon Regal si arriva così ai 600 Ribot che ha sbagliato, ora prova a rinvenire per linee esterne intanto Riff Cronos che è passato quando siamo all'imbocco della seconda curva nei confronti di Ramon Regal ripete l'errore Ribot e K e allora Riff Cronos arriva al paletto di metà gara in 1,2,8 nei confronti sempre di Ramon Regal quindi ancora il numero 3 Renilcam quindi l'1 di Rustico Jet il chilometro che il battistrada percorre in un buon 1,18 appena un filo scarso quando siamo adesso agli ultimi 500 di corsa con Riff al comando su ancora Ramon Regal quindi il numero 3 Renilcam è l'1 Rustico Jet si va a metà della piegata conclusiva c'è stato un paletto in 15,1 con sempre Riff Cronos al comando nei confronti di Ramon Regal che comunque è lì a contatto addirittura d'arrivo Riff Cronos che prova a distendersi Ramon Regal che cerca di andarlo a prendere Ramon Regal che attacca a fondo Riff Cronos Riff Cronos che tenta la difesa ma Ramon Regal che è incisivo poi all'esterno anche Renilcam nel finale proprio Renilcam che va sui due in lotta Renilcam che viene a vincere nei confronti di Ramon Regal Riff Cronos 2,5 appena abbondanti per Renilcam Vincenzo Longo dopo 2 nulla di fatto ha ottenuto il successo in questa terza uscita mediale al chilometro che recita 1,18 e 1 il finale di Riff Cronos che cede in arrivo inaspettatamente mentre all'esterno Renilcam viene a concludere nei confronti di Ramon Regal quindi 3,5,6 l'ordine di arrivo provvisorio di questa prima da Tordivalle 76,74 la quota di Renilcam che c' HDR dopo 0 visto